Dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, Rossini TV trasmetterà ogni celebrazione dalla Cattedrale di Pesaro portando nelle case dei fedeli le liturgie pasquali condizionate anche in questo 2021 dalla pandemia in atto. Sei appuntamenti presieduti dall'Arcivescovo Monsignor Piero Coccia che cominceranno il 28 marzo con la Domenica delle Palme e la Passione del Signore e la Santa Messa ufficiata in Cattedrale nel segno della commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme celebrata in ogni parrocchia con la distribuzione ai fedeli dei rami d'ulivo in forma ristretta ed essenziale per evitare assembramenti. Sarà invece a porte chiuse la Messa Crismale che sul canale 633 verrà celebrata in diretta mercoledì 31 marzo alle 18 dalla cattedrale. Terzo appuntamento giovedì 1 aprile la Messa in Cena Domini che sarà trasmessa sempre alle 18 ma celebrata senza la tradizionale lavanda dei piedi. Ancora alle 18 dal Duomo venerdì 2 aprile il quarto appuntamento con la celebrazione della Passione del Signore che potrà essere celebrata in ogni chiesa con una intenzione di preghiera speciale per chi si trova in situazione di smarrimento a causa della pandemia per i malati e per i defunti. Sabato 3 aprile Rossini TV trasmetterà dalle 19 la veglia pasquale nella Notte Santa prima di domenica 4 aprile quando alle 11.30 l'Arcivescovo celebrerà il pontificale nella solennità della Pasqua di risurrezione del Signore.